Buonasera a tutti, grazie di essere qui presenti per l'inaugurazione del ciclo sugli scienziati italiani e la grande guerra. Come forse qualcuno di voi saprà, l'Accademia fin dall'anno scorso, quando ricorreva il centenario dell'entrata in guerra dell'Italia, ha organizzato delle iniziative per ricordare questo importante avvenimento attraverso un ciclo che l'anno scorso si era intitolato Pensare alla guerra e che aveva analizzato la posizione dei principali scienziati italiani nei confronti del conflitto, mentre quest'anno abbiamo pensato di dedicare il ciclo al ruolo e partecipazione degli scienziati italiani nella grande guerra. È intenzione dell'Accademia di continuare poi l'anno prossimo con un convegno dedicato a Caporetto e nel 2018 un ulteriore ciclo dedicato invece poi alla vittoria e ai postmi della vittoria, insomma, tutto quello che è capitato. Il tema di quest'anno è un tema forse meno conosciuto degli altri, ma certamente di grande importanza e abbiamo invitato a inaugurare questo nostro ciclo il professor Angelo Guerraggio, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Il professor Guerraggio è ordinario di matematica generale nell'Università dell'Insubria a Varese e direttore e animatore da molti anni del centro Pristem dell'Università Bocconi, che è un centro che si occupa di storia e divulgazione della matematica, pubblica una importante apprezzata e molto interessante rivista, la lettera Pristem e poi ha tutta un'altra serie di iniziative che sono di grande rilievo per quello che riguarda appunto la storia e la divulgazione matematica. Il professor Guerraggio, oltre ad essere appunto matematico, economista, economista matematico, è anche, direi forse soprattutto, uno storico della matematica molto apprezzato, che ha molto studiato, diciamo, la matematica italiana, soprattutto nel periodo fra le due guerre, ma anche prima, insomma, con studi che ha fatto e in particolare ha pubblicato recentemente un volume dedicato proprio ai temi di cui parlerà oggi, che si intitola Gli scienziati in trincea, quindi ci è sembrata la persona più adatta per parlare di questo argomento. Dopo la sua conferenza, il ciclo proseguirà giovedì prossimo, 5 maggio, con una conferenza della professoressa Rossana Tazioli dell'Università dei Sciences e Tecnologie di Lille, che parlerà del ruolo dei matematici nella Grande Guerra, il 12 il professor Marco Rodolfo Gallone della nostra Università, che è qui presente, che parlerà del ruolo dei medici e dei fisiologi italiani nella Grande Guerra, e infine giovedì 19 maggio il professor Annibale Mottana dell'Università di Roma III, che parlerà del ruolo dei geologi e geografi italiani nella Grande Guerra. È possibile che ci sia poi una coda in autunno, che potrebbe poi essere dedicata alla chimica e alla fisica, ma insomma non promettiamo ancora niente perché non è ancora stato definito. A me questi argomenti hanno sempre interessato e ne ho sentito parlare per la prima volta dal mio primo indimenticato grandissimo maestro Alessandro Terracini, matematico di grandissimo valore, il quale raccontava a me, giovane assistente volontario, di come durante la prima guerra mondiale, insieme con un altro matematico altrettanto famoso, Mauro Piccone, avesse compilato delle tavole di tiro per l'artiglieria che servivano soprattutto per il tiro in montagna, perché insomma il fronte italiano era un fronte montuoso, come sapete, e quindi teneva conto anche degli aspetti della pressione, la temperatura, l'umidità, insomma l'aspetto particolare del clima montano, e che queste tavole di tiro non state talmente apprezzate che erano poi state utilizzate anche negli altri eserci dell'intesa, che le avevano trovate appunto molto ben fatte, e una volta mi disse anche che quasi quasi era, se non più orgoglioso, altrettanto orgoglioso di questo lavoro fatto di molti dei suoi studi scientifici sulla geometria algebrica, sulla geometria proiettiva differenziale. Ma adesso termino, ringrazio ancora una volta professor Guerraggio per aver accolto il nostro invito e gli do la parola. Ringrazio molto il professor Alberto Conte per le sue parole così cortesi, per l'invito, ringrazio l'Accademia e appunto il suo Presidente, se posso dire, se ben capito, i suoi Presidenti adesso per questo invito che, come potete immaginare, mi fa molto piacere. La Prima Guerra Mondiale è la Prima Guerra per tanti versi, gode di questo primato, è la Prima Guerra Mondiale, è la Prima Guerra che dura cinque anni, dopo tantissimo, la Prima Guerra che coinvolge fronti, è la Prima Guerra che fa così tanti morti. Quindi è la Prima Guerra da tanti punti di vista. Anche è considerata dagli storici, gli storici storici, come la Prima Guerra moderna, moderna nel senso che è la Prima Guerra scientifico-tecnologica perché usa davvero innovazioni scientifiche poi tradotte in una tecnologia appropriata con una consistenza notevole e poi fa riferimento a risultati recenti, 1914, di qualche decennio fa. Quindi è chiaro che da questo punto di vista la Prima Guerra Mondiale impallidisce di fronte le guerre di oggi, è ovvio. Impallidisce di fronte, è un tragico impallidire, di fronte alla Seconda Guerra Mondiale. Però rispetto alle guerre precedenti, pensate per noi le guerre, adesso è inutile, le guerre del Risorgimento, la guerra di Libia, 11-12, ecco, è una guerra davvero innovativa dal punto di vista scientifico-tecnologico. Io non vorrei, accenno solo brevemente perché, quali sono le maggiori innovazioni dal punto di vista scientifico-tecnologico che tengo come binomio senza distinguere scientifico e poi tecnologico, un po' perché non credo che ci sia una cesura così netta tra questi due aggettivi e poi per andare via più veloce su questo argomento. È la Prima Guerra, appunto, in cui ad esempio vengono usate le automobili, le macchine, le automobili. La Fiat non era, pensando a Torino, non era molto vecchia, 1915, e sono macchine, le automobili, che sostituiscono la trazione animale per molto, salvo proprio quando sei sul fronte, allora lì non puoi andare con la macchina, devi ricorrere, devi continuare a ricorrere ai muli. E, a proposito di macchine, questa è una macchina un po' particolare, è la Prima Guerra in cui vengono usati i carri armati, che è una tecnologia soprattutto inglese, nella battaglia della Somme del 16 vengono usati i tank per la prima volta, per non parlare poi delle comunicazioni, telefono, telegrafo. Non è la prima volta che si usa il telefono, però quasi, il telefono era una tecnologia che era stata usata in guerre precedenti di 30-40 anni, il telegrafo Marconi l'aveva appena fatto, per così dire, e in questo caso il fronte, a differenza delle guerre a cui si era abituati nell'Ottocento, il fronte della guerra era tale, pensate ai tedeschi, scusate se ricordo queste piccole cose di storia, il cui fronte andava dalla Francia alla Russia. E quindi le comunicazioni svolgevano un ruolo, come si può ben capire, essenziale. E poi, magari ne parleremo, ecco, questa è proprio una dimensione scientifica, il sonar. Ecco, non è la prima, ma insomma vengono usati i sommergibili, e con i sommergibili ho il problema di capire dove sono, e quindi di capire, di individuare i suoni che emettono. e quindi il sonar e i fisici francesi, l'angevin e così via. Le innovazioni principali per cui la prima guerra mondiale viene ricordata sono comunque due, e sono l'aeroplano, qui è proprio la prima volta in guerra che si vola. L'Italia l'aveva già usato in parte nell'11-12 nella guerra in Libia contro i turchi, però è una guerra ancora locale. Questa è la prima volta, e la tecnologia aeronautica fa piaccio o non piaccia. Qui cominciamo a entrare in quel piaccio o non piaccia dei rapporti tra scienza e guerra, ma è un tema che ovviamente non si può non affrontare. La tecnologia aeronautica fa dei passi notevolissimi in avanti in quei cinque anni, quattro anni della guerra. Gli aerei entrano in guerra che sono dei trabicoli, se mi permettete, che servono solo per ricognizione. Non ci sono le armi sopra su questi aerei e servono solo per vedere quello che fa il nemico, perché ormai i cannoni sparano a qualche chilometro, a qualche decina di chilometri, quindi non li vedo più i nemici che sparano e non vedo più dove devo sparare. Ho bisogno dei palloni, ma ho bisogno di qualcosa che veda dall'alto. Quindi entrano da ricognizione e escono dalla guerra nel 18 dotati di... e all'inizio poi sparano, ma si spara... adesso fanno cose che fanno tenerezza, semmai queste cose facessero tenerezza, nel senso che sparano con le rivoltelle dall'alto, sono biposto, quindi c'è uno davanti che guida e quello dietro che spara. Escono dotati di mitragliatrici, escono che possono volare anche di notte, escono che possono andare fino a Vienna, possono cioè hanno un'autonomia d'annunzio va a Vienna quando supera il problema dell'autonomia di volo. Nell'11-12 i nostri aerei non andavano in Libia in aereo, venivano messi sulle navi a Napoli, venivano smontati e rimontati quando andavano in Libia, perché non riuscivano ad attraversare il Mediterraneo. Ecco, tutto questo in 5 anni, 6 anni, dall'11 al 18. Gli aerei, questo è anche nella memoria, la nostra non è più una memoria diretta, ma tramite le letterature, i film soprattutto, gli aerei. E la seconda... gli aerei tutto sommato fanno un po' di romantico, lasciano un sapore di romantico, questi... ecco, quello che invece non ha niente di romantico è la seconda innovazione tecnologica, direi, che viene utilizzata nella guerra e sono le armi chimiche, i gas. Ecco, qui di romantico c'è proprio... non c'è niente. Nel senso che i chimici usano il cloro, che era un... loro lo conoscevano già, si conosceva il cloro. Non si conosceva come utilizzarlo in guerra, come utilizzarlo. Il cloro era ovviamente velenoso, il cloro era molto richiesto dagli utilizzo dalla guerra, perché era più pesante dell'aria, quindi stava a terra per un certo periodo di tempo, non è che bastasse un piccolo refolo di vento perché lui volasse via, sta a terra, però è sufficientemente volatile e quindi dopo un certo numero di ore va via e quindi tu con la cavalleria puoi seguire l'azione e puoi entrare sul terreno di guerra senza tu, che hai lanciato questi proiettili di gas, esserne colpito. E la data fatidica posso adesso chiedo scusa, non è il caso che guardi la data esatta, ma credo di ricordarla giorno più giorno meno, è quella del 22 aprile del 1915, quando i tedeschi, e poi i tedeschi vuol dire addirittura un premio Nobel per la chimica. La commistione tra scienza e guerra è ad alto livello, cioè non un chimico qualsiasi, uno che nel 18 prenderà, per fortuna non per le bombe chimiche, per i proiettili gas, ma per la sintesi dell'ammoniaca, Fritz Haber, prenderà il premio Nobel per la chimica nel 18 con tutta una serie di polemiche che potete immaginare perché era considerato da metà del mondo un criminale di guerra, per aver usato contro tutte le convenzioni dell'epoca, aver usato quest'arma che non si poteva usare. E viene usato per la prima volta appunto da Fritz Haber, i tedeschi come sapete, insomma quello che sappiamo anche noi che non siamo storici, quello che ricordiamo, i tedeschi cercano di invadere subito la Germania passando tramite il Belgio e poi invece vengono bloccati e la guerra diventa una guerra di posizione sull'Ardenne, nel confine insomma nord-est, diciamo così, della Francia, tra Francia e Germania e lì aprono il... dopo essersi accertati che ci fosse un vento che lo spingesse nella direzione del nemico e sufficientemente stabile perché non tornasse indietro, aprono queste bombole di gas e fa 6.000, di un colpo 6.000 morti, 6.000 marocchini, soldati nord-africani che combattevano per la Francia. Ecco questa è la grande... e allora dopodiché è tutta una rincorsa da parte di tutti i paesi, ovviamente nessuno vuole rimanere indietro perché si pensa per un attimo che questa sia la svolta definitiva della guerra, queste hanno le bombe, le armi chimiche, ci fanno fuori tutti, in realtà non succederà così, e allora c'è da parte di tutte le altre nazioni la ricerca, anzitutto alle maschere anti gas e poi a creare un gas più gas degli altri, più potente, più mortale degli altri e quindi è tutta una rincorsa con queste forze che si neutralizzano vicendevolmente e le armi chimiche non sono quell'arma finale che si pensava potesse essere. Ecco questo è il motivo detto in poche parole per cui la guerra del 15-18 per noi del 14-18 è considerata una guerra con molte virgolette purtroppo, una guerra moderna, una guerra scientifico tecnologica. Questo per dire che occuparsi degli uomini di scienza durante la prima guerra mondiale è una cosa che fa piacere a chi studia, chi è ricercatore di matematica, fisica, chimica, perché è vedere che cosa ha fatto e come hanno pensato i propri progenitori, ma al di là di questo interesse corporativo, corporativo nel senso buono del termine, di appartenente a questa corporazione, è un elemento importante perché gli uomini di scienza cominciano a giocare un ruolo davvero importante. Insomma per dirla in breve comincia la storia che poi porta a Fermi, a Manata, al progetto Manata, alla bomba atomica e che porta ai droni di adesso, comincia con la prima guerra mondiale questa storia. Io dico un attimo che cosa hanno fatto gli italiani, che cosa fanno gli italiani, gli uomini di scienza italiane, matematici, fisici e chimici, io come dicevo non mi sono occupato di pur uomini di scienze importanti nella guerra, quali medici e psicologi che hanno un ruolo importante, ma ci sarà appunto una conferenza che tratterà ecco espressamente di questo argomento. Quindi che cosa hanno fatto matematici, fisici e chimici durante la guerra? Ecco, faccio un attimo, poi mi ripongo la domanda, volevo tornare un attimo indietro. È una guerra, la prima guerra scientifica-tecnologica, questo è un aspetto a cui tengo diciamo un po', sia perché ci sono gli aerei, le armi chimiche, eccetera, eccetera, ma anche perché si va a istituire un rapporto diverso tra l'uomo di scienza e il potere politico-militare, nel senso che sempre non si possono riassumere il primo matematico di cui si parla pensando alla guerra di Archimede, quindi non si possono riassumere in pochi minuti duemila anni, però con tutte le semplificazioni dei pochi minuti si può dire che, e con tutte le eccezioni, Archimede un'altra, così parlando Leonardo, il mondo scientifico non era coinvolto direttamente nella guerra. Mondo scientifico e mondo militare erano due mondi che sapevano l'uno dell'esistenza dell'altro, ma gli uomini di scienza, con tutte le eccezioni del caso, non lavoravano per la guerra. Galileo non fa il cannocchiale, fa il cannocchiale per guardare la luna, non per guardare le navi nemiche, dopodiché capiscono che il cannocchiale serve anche per la guerra e lo usano per la guerra. Ecco, qui cambia, col 1914, uso questa espressione un po' non volgare ma un po' banalotta, cioè c'era il modello del supermarket, cioè gli uomini di scienza mettevano i loro prodotti sugli scaffali del supermarket e i militari quando ce n'era bisogno andavano al supermercato e compravano le armi che erano in vendita. Quindi ognuno sapeva, il compratore sa del venditore e viceversa, ma non si parlano direttamente in contemporanea. Col 1914 cambia, cambiano due cose. Primo viene ormai a cadere definitivamente la figura dell'inventore. Quando si parlava di uomini di scienza coinvolti nelle cose di guerra c'era l'inventore, anche qui permettetemi, l'Archimede Pitagorico, quello un po' matto, un po' strano, che scrive un sacco di stupidaggini, più delle volte, e gli uomini militari devono vedere se per caso tra le cento stupidaggini che gli arrivano scritte ce n'è almeno una che vale la pena di sviluppare. L'inventore un po' fantasioso, un po' non laureato, non ha fatto studio, un po' un uomo bizzarro. Ecco, no, basta, basta. Adesso non è più l'inventore, ma è lo scienziato, l'interlocutore delle forze militari e politiche. E, oltretutto, lo scienziato, cioè questi uffici che si chiamavano, non a caso, uffici invenzioni, e poi si chiamano uffici invenzioni e ricerche, e poi si chiamano Consiglio nazionale delle ricerche, o Consiglio internazionale delle ricerche, questa è la parabola. Bene, questi uffici non fanno più da cassetta postale, dice vediamo oggi cosa mi è arrivato, quali sono le proposte che mi sono arrivate. No, assumono un ruolo propositivo e convocano gli scienziati. È il modello, sempre per parlare di, è il modello Los Alamos, li convoco nel New Messico e fammi la bomba. Lo stesso, dimensioni minori, è l'inizio della storia, nel 14-18, fammi il gas più mortale che puoi. Gli scienziati vengono convocati, si devono in una stanza e qui mi devi mettere fuori. E voi capite che allora da qui, in questo momento, sempre un pochino, un po' di retorica, enfatizzare proprio in questo momento, nascono i problemi etici per gli scienziati. Prima che io facessi il cannocchiale, che il cannocchiale venisse usato per la guerra non era un mio problema. L'avevo fatto, ripeto, con tutte le semplici. Adesso sono io che faccio la bomba chimica, sono io che sparo i proiettili di cloro. E allora i problemi, ho alle spalle tutta l'età del positivismo, io uomo di scienza sono per la verità, la giustizia, la libertà, il progresso, la fraternità, sono per la morte. È chiaro che qualche problema, non di poco conto, comincia a nascere. Vi dicevo, mi chiedevo concretamente, cosa fanno i matematici, i fisici e i chimici italiani. I chimici fanno i chimici, quindi i chimici fanno le maschere, perché tu fai la maschera e poi quelli ti cambiano il gas e allora la maschera che tu hai creato non va più bene. I chimici fanno i chimici ci vuol dire maschere, antigas e nuovi gas, più noi, Alberto Conte citava Caporetto nella sua presentazione, noi perdiamo Caporetto perché i tedeschi aiutano gli austriaci e ci colpiscono con un nuovo gas che non era previsto. I chimici fanno i chimici. I matematici e i fisici sono loro gli uomini di scienza coinvolti in prima persona nella guerra, sono loro. La prima guerra mondiale è una vulgata, se volete, ma è un po' sta come alla seconda, la seconda guerra mondiale è la guerra dei fisici, la prima guerra mondiale è la guerra dei chimici. Sono loro i protagonisti sul versante scientifico della guerra. I matematici e i fisici italiani fanno sostanzialmente due cose, molto riassumendo. Una è stata appunto ricordata da Alberto Conte, fanno, soprattutto i matematici, fanno le tavole di tiro. Le tavole di tiro ovviamente esistevano perché appunto sparo a 10 chilometri e se sparo a 10 chilometri non vedo più l'obiettivo, so che è lì ma non lo vedo. Quindi devo dare agli uomini d'artiglieria, devo dare delle tavole, mica degli studi approfonditi, ma devo dare delle tavole di pronta esecuzione che mi danno in funzione della gittata, mi danno l'angolo di alzata del cannone. Se devo colpire a 7 chilometri l'angolo sarà di 30 gradi. Insomma danno questa relazione funzionale tra angolo di tiro e gittata del cannone, tenendo presenti tutte le... e beh qui il vento, se io devo sparare a 20 metri il vento cosa me ne frega, ma se io devo cominciare a sparare a 7 chilometri il vento, la pressione, l'umidità, l'atmosfera cominciano a essere fattori non trascurabili. Queste tavole in Italia, ma non sono in Italia, sono state tradotte anche in francese, venivano chiamate in Italia tavole del Siacci, da questo meccanico razionale torinese, prima di andare a Napoli, mi pare, ma comunque torinese, ma la guerra si faceva per tutta l'Ottocento, si era fatta in pianura, quindi erano tavole di tiro in pianura. La nostra è una guerra, anche se il fronte dolomitico non è il nostro fronte principale, il fronte principale è quello che va verso est, ma anche voglio dire sul Carso non è pianura, e il nostro è un fronte appunto montagnoso. E quindi queste tavole di tiro, quando il dislivello tra il pezzo che spara e l'oggetto da colpire è dello stesso ordine di grandezza della gittata, si parla di un dislivello tra i 500 e i 1000 metri, io sparo dal basso verso l'alto e sparo con una gittata di 1000 metri, 2000, voglio dire, cominciano a essere confrontabili, ecco, quelle stesse tavole di tiro non vanno più bene, e quindi ho bisogno di adeguarle. Ho bisogno di adeguarle noi italiani perché lavoriamo in montagna, combattiamo in montagna, ma anche gli altri che combattono in pianura, nella pianura i francesi e i tedeschi insomma, hanno lo stesso problema del tiro quasi verticale quando sparano dall'alto verso il basso con l'aereo. Si spara, vi dicevo, si comincia a sparare dall'aereo e anche dall'aereo il tiro è quasi verticale, quindi ha lo stesso problema, diverso, scusate, ma per certi versi simile. E qui sono i più bei, forse i più bei nomi della matematica italiana, Alberto Conte citava Terracini, citava Picone, ecco, e soprattutto Picone, quello che poi si farà anche più bello di questa, che vanterà, esagererà, ma insomma è stata un'esperienza. Picone, adesso non voglio fare, deviare dal discorso, ma pensate a dei matematici, Picone lo dice, questo era un matematico che aveva studiato a Pisa, la normale, non sapeva neanche cosa fosse un cannone, era un teorico, lui sapeva cos'era le equazioni differenziali, il cannone non sapeva neanche come era fatto, la stessa cosa dice Fubini, non l'ho mai visto, se non forse qui a Torino in qualche museo storico. Ecco, tutto all'improvviso, tutto ad un tratto, si trovano a dover risolvere un problema molto concreto e anche tener conto di una variabile di cui a volte i matematici non tengono conto il tempo, me lo devi fare in fretta. Ecco, e allora Picone dice, ho scoperto che la matematica non è solo bella, ma è anche utile. E poi è una storia molto importante per la matematica italiana, perché nasce da qui, io lo semplifico, nasce da qui l'Istituto Nazionale per l'Applicazione del Calcolo, nasce da qui la matematica applicata, adesso la dico in parole molto semplici, la matematica applicata negli anni 30 in Italia. Mauro Picone, ma c'è anche appunto Fubini, c'è Severi coinvolto in queste vicende, cioè molti nomi, molti bei nomi sono stati coinvolti. L'altra cosa che fanno è ancora più curiosa, non che le tavole di tiro siano curiose, ma insomma, questa è più curiosa, ed è il fonotelemetro. E vi dicevo che il problema è di capire da dove mi sparano, e da dove mi sparano i sommergibili, questo è un discorso appunto, il suono nell'acqua, e da dove mi sparano i cannoni, io non li vedo più. D'accordo che ho gli aerei per vedere dall'alto, però gli aerei si alzano solo di giorno all'inizio, gli aerei se piove non vedono niente, non vedono. Soprattutto se il pezzo che mi spara è coperto dalla vegetazione, gli aerei non vedono. Allora io ho il problema di capire ugualmente dove mi sparano, e qui lo fanno, la prima guerra mondiale è questa, lo fanno con delle vedette, ma non delle vedette con gli occhi, con delle vedette acustiche. Il fonotelemetro è una cosa quasi che ha, ma è questo. Il fonotelemetro mettono due orecchie, due coppie di orecchie, due vedette acustiche ad una certa distanza tra di loro, due chilometri tra di loro, ovviamente hanno un cronometro per fissare il momento in cui sentono lo sparo. Sentire lo sparo non è banale, perché non spara un solo cannone, ma ne sparano due, cinque, dieci in contemporaneo e tu devi seguire un cannone. Poi il rumore che fa un cannone sono due rumori diversi. C'è il rumore quando la palla esce dal cannone, che è quello che ti interessa perché ti dice dove è il cannone, e poi c'è il rumore che la palla fa venendo avanti con l'aria, insomma, e quello non ti interessa, ti disturba. Quindi devono sentire il rumore, devono sentire il rumore giusto, devono individuare il rumore giusto e devono dire con quanti secondi gli arriva di differenza. Siccome, questa è proprio la fisica che so anch'io, velocità uguale spazio fratto tempo, la velocità la conoscono perché è quella del suono, allora dal delta t, qui arriva con tre secondi di ritardo rispetto all'altro, dal delta t riescono a ricavare il delta s, cioè quello è un punto tale che la differenza tra queste due distanze è un certo numero, è la definizione di iperbole equilatera e quindi tra, luogo dei punti come già mi ha insegnato a scuola, luogo dei punti tali che la differenza tra le distanze a due punti fissi detti fuochi, le due vedette acustiche, è costante. E allora tracciano un sacco di... quindi so che il cannone che spara è su un'iperbole di cui questi due punti sono fuochi, è uno di questi punti. E allora ho bisogno di altre coppie per intersecare, poi tutto questo ovviamente è un discorso di approssimazione perché è basato sull'orecchio umano, quindi... e qui soprattutto c'è un fisico Garbasso, Antonio Garbasso, che produce questo... e questa è una cosa che io l'ho raccontata in modo un po' ridicolo, ma è una cosa che funziona, è una cosa che funziona, è una cosa che è stata utile nella guerra in Italia, soprattutto negli ultimi... poi viene un po' magari enfatizzato dicendo abbiamo vinto la guerra anche nel 18 per questo, forse un po' enfatizzato, però cioè non è una curiosità, ecco vuol dire è una cosa... la guerra del 14-18 dal punto di vista scientifico è stata questa. Io volevo però soffermarmi in particolare su... qual è il ruolo... gli uomini di scienze italiani cosa pensavano della guerra? Ecco, io vorrei... adesso forse mi sono un po' dilungato sulla prima parte, ma quello che voleva essere il cuore del mio intervento era questo. La guerra è una guerra scientifico tecnologica, comincia la storia che ha portato ai droni oggi, comincia, comincia lì, nel 14. Gli uomini di scienza vi partecipano, anche gli uomini di scienze italiani vi partecipano, ho cercato di raccontare come, ma al di là del loro ruolo scientifico come uomini di scienza, come cittadini, diciamo così, che cosa pensavano della guerra? Ecco, io vorrei nella seconda, insomma, spero di non essere, di non dilungarmi troppo, dirvi come si collocano gli uomini di scienze italiane rispetto... voi sapete che l'Italia vive dieci mesi di grande dibattito, non si sa se entrare o non entrare in guerra. Voi sapete che la guerra scoppia, mi pare, il 29, fine luglio, 28, brevissimamente, 28 giugno c'è l'attentato Sarajevo Francesco Ferdinando, la Serbia che dà un... la Serbia... l'Austria che dà un mese di tempo per l'ultimatum, la Serbia risponde in modo che gli austriaci giudicano insoddisfacenti, il 29 luglio scoppia la guerra e nel giro di pochi giorni, tre, quattro giorni, la guerra diventa guerra di tutti contro tutti, diventa una guerra mondiale. Gli italiani si astengono per il momento e dichiarano per il momento la loro neutralità. Eravamo legati dalla triplice alleanza con Austria e Germania, eccetera, neutrali. E noi rimaniamo neutrali, come sapete, fino al 24 maggio del 15. Quindi sono dieci mesi di grande dibattito nel paese in cui si confrontavano tre posizioni, una subito minoritaria, dobbiamo entrare in guerra a fianco di Austria e Germania, l'onore... ci eravamo impegnati, minoritaria. E poi le due prevalenti, neutralista, dobbiamo stare fuori dalla guerra, tanto il nord-est ce lo danno lo stesso se stiamo fuori, anzi se stiamo fuori ce ne danno un po' di più, e l'altra dobbiamo entrare in guerra a fianco di Francia, Inghilterra e Russia. Qual è la posizione degli uomini di scienza? È facile qui da dirsi, non c'è nessun referendum, non si sa che l'ottanta per cento era il venti per cento, no. Però da tutte le testimonianze degli uomini di scienza, io parlo matematici, fisici, chimici, che parlano, poi c'è sempre la maggioranza silenziosa di cui non si sa quali fossero le loro opinioni, ma tutti quelli che intervengono, tutti, le eccezioni si contano su le dita di una mano, sono tutti a favore della guerra, sono tutti interventisti. Tra i matematici si ricorda solo un grande, per carità, matematico come Tullio Levi Civita, socialista, che si dichiara sempre a favore della neutralità contro la guerra, pacifista, diciamo. Bene, non è che abbia fatto grandi cose come pacifista, voglio dire, non è che ha scritto libri, interventi, comizi, no. Però si hanno alcuni documenti in cui lui si dichiara contrario all'intervento dell'Italia in guerra. I suoi rapporti con Volterra, di cui adesso si parlerò, indubbiamente si raffreddano in quegli anni e ci vorrà un po' di tempo perché i due tornino in quel clima di cordialità che contraddistingueva le loro relazioni. Ma a parte Levi Civita, sono tutti per la guerra. E allora quello che io volevo ragionare, volevo dire, su quale volevo ragionare con voi, sono alcune domande che pongono questa collocazione. Tutti gli uomini di scienza, il tutti è tra virgolette, ma è per parlare velocemente, ma non è una storpiatura di ciò che era, una semplificazione se si vuole. Tutti gli uomini erano a favore della guerra. Bisogna entrare in guerra a fianco di Francia, Inghilterra e Russia. Allora, le osservazioni, la prima è che questo fatto, almeno a me personalmente, colpisce e sorprende. Se non lo sapessimo, se non l'avessi letto, se non l'avessi saputo un anno fa, è un fatto sorprendente. Noi siamo abituati, credo di poter dire noi, siamo abituati, ditemi se mi sbaglio, noi siamo abituati, la storia del Novecento è che gli intellettuali, uso questo termine, gli uomini di studio, sono per la pace. Noi siamo abituati a vedere gli studiosi, quegli anziani, quelli meno anziani, i giovani studenti, quindi sempre marciare, manifestare sotto la bandiera della pace. Questa è l'immagine che abbiamo. Abbiamo l'impressione che la cultura, la scienza sia di fatto pacifista, almeno io ho questa idea, sia di fatto appunto per la pace, la solidarietà, per il progresso dei più deboli, insomma questo mito, oppure questo traguardo, questo pensiero. E qui invece ci troviamo che questi sono tutti, tutti tra virgolette, ma per l'ultima volta, sono tutti per la guerra, sono tutti per la morte, non so come dire, si moriva. Io mi ero segnato qui per, c'è una frase di Cadorna, del nostro capo di senato maggiore, che dice che quelli che fuggono vanno a fucilare le decimazioni, non vi sto a raccontare che cos'è la guerra, perché la guerra non è il romantico dell'aereo che vola e c'è d'annunzio che va, cioè la guerra è stata una cosa incredibile, questi venivano, c'erano dietro, voi sapete che dietro l'esercito c'erano i carabinieri, i carabinieri il loro ruolo era di fucilare, prenderlo, di fucilare quelli che scappavano o quelli che non combattevano con sufficiente ardore. E quando c'era un reparto che non aveva combattuto, non si era comportato correttamente, la decimazione, decimazione vuol dire uno su dieci, la guerra era questa, di persone che per la maggior parte non sapeva per che cosa combatteva, cioè la fanteria, non vi sto a dire da chi era composta, e andare a partecipare alla guerra in fanteria era quasi, voglio dire, le probabilità di morte erano molto elevate. Allora questo a me è un fatto che colpisce, e allora mi chiedo, mi sono chiesto, mi chiedo, ma perché gli uomini di cultura, gli uomini di scienza, noi pensiamo dotati di grande razionalità, magari non è così, ma di grande intelligenza, cioè noi abbiamo quest'idea, io ho quest'idea degli uomini di scienza. Perché nel 14 si sono dichiarati tutti, quasi tutti, a favore della guerra? Ecco, le risposte ovviamente non sono facili, o meglio, sono molteplici, e sono interventisti. E' bene dire subito che la maggior parte di loro non è, di quelli che, sì, io posso dire, la maggior parte di loro, quasi tutti loro, non sono degli interventisti guerrafondai, non sono matematici, fisici e chimici che non vedono l'ora di menare i tedeschi. No, non è questo tipo di interventismo, non è un interventismo alla d'annunzio, non so come dire, non è un interventismo che va a finire dieci anni dopo in camicia nera, no, non è questo interventismo. E' quell'interventismo che gli storici, gli storici storici, chiamano interventismo democratico. Cioè loro ritengono, e poi vi faccio alcuni nomi, vi racconto alcune storie, loro, gli uomini di scienza, in quasi la loro totalità, ritengono che la guerra del 14-18, per noi 15-18, sia una guerra giusta. E cioè, che cosa riescono a tenere insieme con questa loro scelta? Riescono a tenere insieme l'aria montante nazionalista che pervade tutti i paesi d'Europa, con delle istanze di carattere democratico. Loro sono degli interventi, bisogna fare la guerra, democratici. Perché attraverso la guerra, la guerra non è l'igiene del mondo, la guerra non è la guerra dei futuristi. La guerra è un modo per rispettare, per liberare le nazionalità oppresse dall'impero austro-ungarico. Bisogna liberare questi popoli, bisogna aiutare questi popoli a riprendere la loro indipendenza, la loro identità nazionale. La guerra è una guerra giusta, perché bisogna sconfiggere il militarismo prussiano. I tedeschi sono di destra, i tedeschi, il governo prussiano. E la guerra è un modo, l'unico, per dare una spallata contro l'assolutismo, il militarismo prussiano. No, bisogna liberare l'Europa, bisogna fare un'Europa democratica. Queste sono le... In particolare, contro i tedeschi, ce l'hanno, perché, un breve inciso, l'Italia dichiara guerra all'Austria, dichiara guerra alla Germania solo nel XVI, perché nei confronti della Germania l'Austria era il nemico di sempre, il nemico del risorgimento, insomma. La Germania è sempre un paese che ha suscitato... Noi abbiamo fatto due guerre mondiali alla Germania, diciamo anche la seconda. Però nel paese, anche adesso, c'è sempre una grande ammirazione per il modello tedesco. Il bisogno di fare come i tedeschi, non è solo uno slogan di adesso. E quindi noi... Solo nel XVI dichiarano... Perché ci obbligano a dichiarare guerra. I francesi e gli inglesi dicono... Se no, voi siete sempre degli alleati di serie B. Non ci mettevano a conoscenza dei loro segreti militari, perché noi non eravamo del tutto affidabili. Lo diventiamo ai loro occhi solo quando dichiariamo guerra anche ai tedeschi. Dicevo, l'interventismo democratico per liberare le nazionalità oppresse dall'impero austro-ungarico, per abbattere l'impero prussiano, e poi questi tedeschi hanno invaso il Belgio. Non si fa. Il Belgio è un paese neutrale. Un piccolo paese neutrale, la cui neutralità era stata accettata da tutti i paesi. E poi quello che hanno fatto a Lovagno è una cosa incredibile. Hanno distrutto la biblioteca, l'antica biblioteca dell'università. Hanno fatto violenza nei confronti dei civili. Queste cose non si fanno. C'è un motivo in più per cui un matematico italiano comincia a raccontarvi la sua storia con un'occhiata all'orologio. Vito Volterra non ha esitazioni nella sua scelta interventista. Vito Volterra è un personaggio chiave di questa storia, perché è a grande parte nell'aver trascinato il mondo scientifico verso la scelta interventista. Non è che gli altri siano dei cretini e quello che dice Volterra poi allora lo faccio. Però l'autorevolezza di Volterra era tale, per cui una sua parola è una parola pesante. Volterra, per dirla adesso in pochi secondi, era uno dei più importanti matematici italiani del periodo. E uno dei più è sicuramente il più visibile, cioè quello che aveva una maggior visibilità anche internazionale. E' quello che capisce di più che la strada dei congressi internazionali che si era aperta nel 1900 è una strada che va perseguendo, è il futuro della matematica. La matematica è una matematica europea, internazionale, internazionale voleva dire europea. Insomma, quindi, e Volterra, che pure era, Volterra è nato nel 60, quindi aveva 55 anni, era un uomo arrivato, non so come dire, un borghese, un gran borghese, professore universitario, aveva fatto un buon matrimonio, insomma, stava bene, era un uomo di potere. Lui, quindi non era un giovane, come dire, che aveva voglia di me dare le mani, ecco. Eppure lui non sopporta tutte queste cose, e non sopporta una cosa in particolare in più, nei confronti tedeschi, che questi avevano indotto alcuni loro intellettuali tedeschi, alcuni loro intellettuali, 93, e di questi 93 ce ne sono una trentina che sono premi Nobel. È impressionante la potenza culturale della Germania del periodo. I premi Nobel li vincevano loro, per dirla così, è impressionante. I nomi, beh, inducono 93 intellettuali tedeschi a firmare, siamo nell'ottobre del 14, la guerra appena iniziata, a firmare un documento, che viene ricordato come documento Fulda, o documento dei 93, di appoggio all'esercito tedesco. Un appello molto forte, molto costruito bene, costruito da chi sa come si fa comunicazione. Dice, non è vero che l'esercito tedesco ha invaso il Belgio, non è vero che ha violentato, ha usato metodi criminali nei confronti dei civili, non è vero che abbiamo incendiato, non è vero. Non è vero soprattutto che noi siamo un popolo oppressore. Il nostro esercito, il nostro militarismo serve per difendere la cultura europea, serve per proteggere e difendere la cultura europea. Volterra, questo non gli va giù, non gli va giù che si mischi la cultura e la politica. Volterra è un uomo ancora dell'Ottocento, noi diremmo un crociano, cioè cultura e politica sono due mondi diversi. L'intellettuale non firma appelli, non si mischia le cose di politica. L'intellettuale sta in università, fa ricerca. Lui fa politica in senato, era anche senatore, ma non come professore universitario, come senatore. E sarà uno dei motivi per cui sarà antifascista. Il fascismo mischia cultura e politica. Per lui la cultura è una cosa, la politica è l'altra. I tedeschi hanno rotto questa separazione, hanno rotto l'autonomia dell'intellettuale. E questa autonomia va ripristinata. L'unico modo è di impegnarsi anche noi, intellettuali, uomini di scienza dei paesi occidentali, per difendere. La storia di questi uomini. Io vi ho detto, mi sto chiedendo perché sono a favore dell'intervento, ma prima di andare avanti in queste domande, in queste risposte, per dirvi cosa vuol dire essere nel 1915 degli interventisti, vi racconto brevemente una storia, quella di Vito Volterra, non è una storia di armiamoci e partite, perché anche se ha 55 anni questo poi va a volontario in guerra. Però tutto sommato... Ma vi racconto un'altra storia, in poche battute, che ha ancora adesso letta con gli occhi di odio dell'incredibile. Un matematico di primo piano, ad essere sincero non siamo a livello di Vito Volterra, ma di primo piano, Eugenio Elia Levi. Il suo nome viene ancora oggi ricordato nei testi di analisi complessa. Questo era già ordinario. Aveva, mi pare, che fosse dell'83. Aveva 30 anni, super gioco. Aveva vinto velocissimo la Cata, l'aveva vinta nel 7, doveva andare a Messina nell'8, poi gli viene il terremoto nell'8 a Messina, allora lo spostano a Genova, e quindi lui che era torinese, contento. Era una persona, si leggono le sue lettere recentemente pubblicate, era una persona proprio mite, una persona, fatemelo dire così, per bene, non era un violè, per carità. Era un uomo che aveva, come si dice, non era sposato, aveva sposato l'università, aveva sposato gli studi, aveva sposato i suoi studenti, aveva sposato la sua famiglia, le sorelle, il fratello, un fratello è anche Beppo Levi, un altro logico e analista italiano importante. Bene, quindi di tendenze, diciamo, filosocialiste, ma non socialista massimalista, non da bandiera rossa, è un socialista seguace di Bissolati, nel linguaggio della Prima Repubblica diremmo quasi un socialdemocratico, un po' verso il centro, una persona, bene. Viene la guerra, arriva la guerra, lui all'inizio non sa bene cosa fare, nei dieci mesi cambia posizione, e per dire cosa vuol dire cambia posizione, vi racconto la sua storia, vi dicevo in poche battute, se ha ruolo volontario, questo lo fanno in molti, lo fanno in molti, lui poteva starsene in università, fare ricerca, esami, eccetera, eccetera, se ha ruolo volontario, alla visita di leva lo scartano, era piccoletto, non raggiungi i 154 centimetri, che torna a casa, nel frattempo abbassano i 154 centimetri, perché si rendono conto che la guerra sarebbe durata, beh, la vulgata dice perché se no neanche il re avrebbe potuto fare il soldato, ma perché in realtà avevano bisogno di parecchi soldati, bassi o alti che siano, vieni, vieni, allora lui rifà domanda di ruolamento volontario, e lo prendono, e ci va. Nell'autunno del 15 esce un decreto legge, una disposizione, non so qual era l'aspetto amministrativo, un provvedimento per cui dice noi non possiamo sguarnire il paese, la guerra durerà a lungo, non possiamo mandare tutto il paese, tutte le teste, tutti i funzionari, tutta la macchina dello Stato, non lo possiamo mandare al fronte, se no il paese chi è che lo manda avanti? Allora gli alti funzionari, e il professore universitario era un professore ordinario, erano considerati alti funzionari dello Stato, devono tornare a casa loro, e lui si oppone, oggi diremmo, fa ricorso al TAR, perché dice questo provvedimento non può avere, va bene, ma non può avere valore retroattivo, io ero già soldato quando questo è uscito, il TAR, quello che era, gli dà ragione, e questo rimane in guerra, rimane sul fronte, torna a fare gli esami a dicembre, la guerra in inverno, sapete, era quasi sospesa, insomma la guerra si svolgeva ai minimi livelli durante l'inverno, ripartiva in primavera, torna a fare gli esami a Genova, e il rettore gli dice, guarda che tu sei una risorsa insostituibile per questo Ateneo, tu devi rimanere qui, ti farò votare un ordine del giorno, non so di chi, del senato accademico, che dice che tu sei, minaccia di querelare il rettore, se mai avesse fatto, vuol dire questo essere interventista, vuol dire morire a caporetto nel diciassette, un uomo di trentacinque anni, era di trentadue anni, dell'ottantatré, che aveva davanti una vita di studi, di soddisfazioni, anche professionali, questi ci hanno lasciato la vita, delle scelte, oggi come oggi, onestamente, difficilmente comprensive, non dico incomprensive, ma difficilmente comprensive, ecco, questo è stato l'interventismo. E allora dicevo perché? Perché queste hanno scelto l'interventismo? L'hanno scelto perché, vorrei concludere, mettiamoci nelle loro, la guerra non era la guerra che conosciamo noi, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, eccetera, eccetera, Per loro la guerra era, anzitutto, una cosa di cui si parlava in famiglia, nessuno di loro aveva fatto le guerre risorgimentali, come per motivi anagrafici, ma era una guerra a cui avevano partecipato, di cui avevano parlato i genitori, o i nonni. La guerra era una guerra di liberazione del paese, dagli austriati, una guerra di unificazione del paese, la guerra aveva una valenza positiva, la guerra era stata la guerra del risorgimento, quindi non è per noi la prima e la seconda guerra mondiale. E poi? La guerra era una guerra che loro non conoscevano, la guerra era una guerra, come gli avevano raccontato i genitori o i nonni, era una guerra in cui due eserciti confluivano, che so io, a San Martino della Battaglia, facevano una battaglia, non c'erano le guerre, c'erano le battaglie. Questi eserciti si menavano per due o tre giorni, per carità morivano, ma tutto era circoscritto. Dopodiché, basta. Ovviamente l'esercito vincitore si sarà lasciato andare a qualche violenza nei confronti dei civili, qualche furto, insomma, violenza nei confronti delle donne, ma tutto circoscritto, e dopodiché c'era la pace con tanto di gagliardetto, di tutti in alta uniforme. La guerra era questo. Nessuno sapeva cosa sarebbe stata una guerra del Novecento. Ma questo non per giustizia, ma per cercare di capire perché non sapevano a che cosa sarebbero andati incontro. Non capiscono. Neanche gli uomini di scienza capiscono. Capiscono che cosa sta succedendo e bisogna dirlo, ovviamente. È chiaro che stiamo parlando di un mondo nel quale le comunicazioni, non è che si vede in televisione la sera che cosa è successo nel pomeriggio. Quelle notizie arrivano, si comincia a sapere cos'è la guerra nell'autunno-inverno del 15-16, quando arrivano per la tregua i soldati dal fronte e si comincia a capire e poi nel 16 cominciano a esserci poco cibo. E allora si comincia a capire cos'è la guerra. Nel 17 caporetto si comincia a capire cos'è la guerra. Loro non capiscono. Non capiscono. E questo a me non sembra un fatto, voglio dire, da un punto di vista professionale, storico della matematica. Io ho passato la mia vita, insomma, ho cercato di mettere sempre in luce l'intelligenza, la razionalità dei grandi matematici italiani. ma questo non vuol dire farne un ritratto a geografico. Questi nel 14-15 non capiscono che cosa sta succedendo e non riescono a prevedere che cosa sarebbe successo. Ma d'altra parte anche nel 40-45 non è che tutti hanno capito. Ancora nel 43, voglio dire, molti intellettuali frequentano, voglio dire, i convegni tedeschi sulla letteratura. Nel 43 e fanno la scelta della resistenza dopo, qualche mese dopo. Quindi è difficile capire, ma senza cercare nessuna giustificazione, capire in tempo reale che cosa sta succedendo è davvero difficile e loro non lo capiscono. Ancora qualche osservazione. Ci sono delle figure di chimici, non capiscono e si convertono tutti alla guerra. La cosa sorprende, sorprende, per i motivi che vi ho detto, un altro matematico di cui non vi parlo, Francesco Severi, ma volevo parlare, se no non ne parlo, di qualche chimico. Le maggiori opposizioni alla guerra all'interno del fronte scientifico sono inizialmente da parte dei chimici, perché i chimici capiscono cosa è la guerra, capiscono di più cosa è la guerra. C'è un, in particolare, ci sono due chimici di cui vi vorrei parlare brevemente. Un bolognese, Giacomo Ciamician, sono dei grandi chimici, sono stati degli importanti chimici. Questo all'inizio scrive a Volterra per dire che la guerra sarà un massacro, una barbare, intervieni tu, Volterra. Non sapeva che Volterra aveva già fatto la scelta dell'interventismo. Bene, pochi mesi dopo, in Consiglio Comunale, Giacomo Ciamician era consigliere comunale a Bologna, dice no, la patria chiama, noi bisogna lasciar perdere. Ora volevo sottolineare questo, che tra gli uomini di scienza, quando la patria chiama, noi non eravamo come i francesi aggrediti, l'Union Sacrée, perché questi tedeschi ci stanno arrivando a Parigi, noi eravamo degli aggressori nei confronti degli austriaci. Beh, eppure quando la patria chiama, io devo obbedire. Voglio dire che non c'è in questi che si ritengono alti funzionari dello Stato, non c'è la forma di obiezione di coscienza. Non c'è. Nel mondo d'inizio Novecento non è prevista l'obiezione di coscienza. È la regola. La regola dice, lo Stato dice, si va in guerra. Basta. Dice, io obietto. No, non c'è. Avevamo alle spalle l'inizio di questa storia di obiezione di coscienza col caso Dreyfus, che vuol dire che alcuni intellettuali cominciano a ribellarsi allo Stato quando pensano che lo Stato non si comporti in modo corretto. Nel XIV questo non avviene. E c'è un altro caso incredibile di un altro matematico, chimico, Ettore Molinari, che scrive, sono le uniche due, se lo trovo velocemente, due righe, fa un trattato di chimica del 1917. Questo è un anarchico. e se lo trovo, se no lo... E dice che la guerra è... Pensate, dice delle parole che noi tutti ci emozionano. Quando tutti i popoli che pagano con il loro sangue le follie criminose delle classi dirigenti non si lasceranno più ingannare dalle attraenti vernici idealiste con cui si mascherano i veri reconditi scopi di ogni guerra, allora la chimica cesserà di essere strumento di barbarie e tutta la sua meravigliosa attività sarà indirizzata ad accrescere il benessere materiale ed intellettuale degli uomini di tutto il mondo senza distinzione di nazionalità e razza. Un applauso. Peccato che Ettore Molinari di mestiere era un chimico e dirigeva la fabbrica la Sipe di Cengio che era la massima azienda produttrice di materiale esplosivo in Italia. le bombe i proiettili le faceva lui. Vuol dire quest'altra piccola cosa vuol dire che c'è ancora una grossa frattura io non so se sono riuscito a darvi l'idea della cosa che mi interessa di più è l'inizio di una storia all'inizio del Novecento c'è ancora una grossa frattura tra lavoro e politica il lavoro lo fai dal lunedì al venerdì e lì devi lavorare il sabato e la domenica fai politica e questo era un anarchico non era un opportunista una bella figura non fa così per guadagnarsi lo stipendio è una bella figura Ettore Molinari però lui dal lunedì al venerdì fabbrica bombe e il sabato e la domenica scrive queste frasi concludo dicendo gli uomini di scienza in generale non capiscono non capiscono appieno insomma che cosa sta succedendo chi capisce chi capisce sono pochi pochi vorrei per chiudere ricordarvi del resto nota la vicenda di Albert Einstein Einstein tedesco lo invitano a firmare nel 14 il manifesto quello che vi dicevo manifesto Fulda e lui rifiuta la sua firma è ovvio che quando tutti firmano e tu non firmi passi per ti hanno pagato sei un antipatriota sei un antitedesco sei venduto al nemico l'ostracismo è subito dietro la porta lui non firma e addirittura non solo non firma ma firma un contramanifesto che adesso non vi leggo neanche in una sua citazione ma è un controappello emozionante nella sua profezia è un manifesto rivolto ai cittadini d'Europa nel 1914 mentre francesi e tedeschi si stavano scannando letteralmente scannando questo dichiara la propria fede nell'unità europea è di una incredibile ha raccolto quattro firme quattro quattro di cui uno la sua e uno ma adesso non sto a raccontarvi uno di uno che si è sbagliato e li ha firmati tutti e due ma questo adesso lasciamo perdere ha perso 93 a 4 e la figura di Einstein mi piace e davvero chiudo con questo scusandomi se l'ho fatta un po' lunga la figura di Einstein mi piace perché quando pacifista ma quando nel 39 si tratta di convincere Roosevelt a costruire la bomba atomica americana perché sembrava che i tedeschi la stessero facendo e prima lui scrive questa lettera mi piace perché i confini tra pace e guerra non sono mai dei confini netti qual è la guerra giusta è un aggettivo è chiaro se uno chiede qual è la guerra giusta quella contro Hitler noi abbiamo alle spalle questo esempio storico ma se ci chiedessimo se è giusta adesso andare in guerra in Libia se è giusta fare la guerra all'Isis ebbè sono risposte difficili sono risposte difficili sono risposte che spaccano i partiti spaccano amicizie spaccano famiglie e mi piace concludere con Einstein pensando che stava per morire nell'aprile del 55 e il suo ultimo gesto pubblico prima di morire è stata la firma che ha fatto arrivare Russell per il manifesto il mondo era cambiato il problema era la proliferazione delle armi delle due superpotenze America e Russia e la firma che lui pone al manifesto che è chiamato manifesto Russell Einstein contro la proliferazione da cui nasce il movimento Pugwash e Russell racconta questa cioè la sua che lui gliel'ha mandato dice Einstein facciamo insieme il manifesto lui dice fallo tu io lo firmo ormai sono stanco sarebbe morto da lì a pochi mesi e Russell lo scrive e poi aspetta la firma di Einstein è ovvio che non era una firma era una firma importante e questa firma non gli arriva e è in aereo così racconta per andare a Parigi non mi ricordo perché dovesse andare a Parigi Russell quando il comandante dell'aereo interrompe non so parla e dice abbiamo ricevuto una notizia brutta una notizia triste una notizia tragica è morto pochi minuti fa qualche ora fa è morto Albert Einstein e allora Russell dentro di sé pensa a parte di dispiacere eccetera eccetera dice non mi ha firmato la lettera se n'è andato prima di firmarmi la lettera e arriva in albergo a Parigi e trova una busta a suo nome e dentro c'era la firma di Einstein al manifesto a quello che sarà chiamato manifesto Russell Einstein allora a me piace una storia che inizia come inizia la storia del novecento degli intellettuali di matrice scientifica e che poi però vede alcuni di loro un numero crescente non la maggioranza non le masse ma un numero crescente di loro prendere coscienza coscienza non manichea io almeno non penso che ci sia il giusto lo sbagliato così nettamente definiti è un come dire un sentiero molto accidentato ma prendere coscienza delle responsabilità etiche degli uomini di scienza e concludere con questa figura di Einstein che prima di morire dà il suo contributo la sua firma a questa storia grazie 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 professor Guerraggio per la sua bella conferenza grazie davvero e se qualcuno pubblico ha delle domande pregato di farle il professor Tecchina non è una domanda è un'osservazione io sono un chimico e naturalmente mi sento altamente responsabile in una situazione di questo genere allora i chimici producevano certamente i gas ma producevano qualcosa di infinitamente più pericoloso che erano gli esplosivi gli esplosivi se facciamo un milione di morti facciamo nella prima guerra mondiale quelli per gas facciamo centomila e i rimanenti sono per esplosivi quindi i chimici conoscevano bene il problema allora ecco accenno questo problema perché ritorno alla figura di Fritz Haber Fritz Haber che è quello che fece la sintesi dell'ammoniaca la sintesi e ricevette il premio Nobel con la motivazione che aveva portato il pane all'umanità ed è vero perché attraverso la sintesi dell'ammoniaca si fanno i fertilizzanti però attraverso la sintesi dell'ammoniaca si fanno gli esplosivi e in realtà voglio dire il motore che mise in moto la sintesi dell'ammoniaca fu duplice da una parte fu la necessità per esempio della Germania di liberarsi dal blocco inglese perché l'azoto che era la fonte dell'ammoniaca proveniva dal guano del Cile e quindi nel continente e non solo la Germania nel continente erano preoccupati della predominanza inglese su questo problema e si misero a fare la sintesi dell'ammoniaca perché dalla sintesi dell'ammoniaca da una parte avevano i fertilizzanti ma tra l'altra avevano gli esplosivi e tra l'altro qui abbiamo un caso in cui è difficile dire come l'opera di quest'uomo tra l'altro un nazionalista ebreo che fece anche una brutta fine poi con Hitler incidentalmente è difficile dire esattamente dove stavano le sue colpe da una parte prende il premio Nobel per una scoperta che ancora adesso da mangiare all'umanità e dall'altra in realtà è la base degli esplosivi senza gli esplosivi della sintesi disarmoniaca la Germania non avrebbe potuto fare la guerra non avrebbe potuto sostenere la forza bellica grazie grazie per il suo intervento non ho niente da aggiungere a quello che lei ha detto salvo rimarcare mi trovo proprio d'accordo su quello è difficile è difficile cioè le cose sono difficili a volte ci sono delle scelte difficili ci sono delle demarcazioni difficili la storia perché non c'è tempo ma la storia di Fritz Haber prendo spunto da questo intervento è davvero una storia lui muore in Svizzera mentre sta andando in Palestina perché è ebreo si è suicidata la moglie dopo Ipr dopo il 22 aprile la moglie che era una laureata anche lei adesso non mi ricordo se è in chimico o in biologia comunque una donna laureata in quel periodo in scienze non erano tantissime che si vergogna per quanto il marito ha fatto e si suicida una storia è questo nazista è poi allontanato perché ebreo gli dicono di mandar via tutti gli ebrei del suo istituto e lui si dimette grazie un'osservazione su un altro fronte che a me è più vicino ma per esempio gli scienziati del mondo biomedico nella Germania in tutto l'ultimo trentennio dell'ottocento avevano avuto un riferimento assolutamente fisso per cui in questo mondo appunto della biomedicina soprattutto delle materie di base i fisiologi in particolare i biochimici avevano tutti i maestri tedeschi e c'erano dei rapporti di amicizia di collegamento per esempio con delle iniziative tipo goliardico ma colte di alto livello di cui anche qui a Torino ci sono alcune radici che fecero sì che al momento dello scoppio della guerra quello fu una remora per alcuni a dichiararsi contro perché queste amicizie si vedevano continuamente erano veramente colleghi amici e riconoscevano nei tedeschi i maestri questo vale anche per i matematici quello che lei dice vale anche per i matematici i tedeschi erano assieme ai francesi d'accordo ma erano i grandi maestri molti di loro avevano studiato in Germania chiaro grazie a me ha colpito molto adesso non abbiamo parlato dei medici ma ne ho parlato su Galloni ma per esempio quello che ha fatto Madame Curie durante la guerra già famosissima premio Nobel la quale per aiutare i chirurghi che dovevano operare i feriti che avevano delle schegge di proiettili nel corpo e quindi era essenziale capire dove fossero per andare a estrarli aveva organizzato un'ambulanza radiologica che spesso guidava lei stessa e che passava appunto negli ospedali da campo a ridosso delle prime linee tra l'altro aiutata dalla giovanissima figlia Irene quella che sarebbe poi diventata che lei per l'abbè Irene Joliot Curie e passò tutta la guerra a fare questa cosa insomma con un ruolo fondamentale importantissimo tra l'altro anche lei con posizioni pacifiste simili a quelle di Einstein ci sono ancora delle domande allora se non ce ne sono ringrazio ancora molto il professor Guerraggio e vi do appuntamento al prossimo giovedì per la conferenza della professoressa Tazzioli grazie a tutti grazie